Ben trovati, tutto il mondo e paese, il nepotismo, i figli, le mogli, beh abbiamo visto che la futura candidata alla presidenza degli States è la moglie, già sottosegretario di Stato però dell'America e la moglie dell'ex presidente Bill Clinton, nel senso i democratici hanno fatto una scelta, per vincere dobbiamo poter dire per la prima volta un uomo di colore presidente degli Stati Uniti d'America, per vincere per la prima volta una donna presidente degli States, ecco non cambia nulla di fatto, ma di fatto abbiamo anche noi importato tutte le degenerazioni americane, quando noi guardavamo purtroppo a certi paesi, a certi continenti nel vedere la ricchezza da una parte e il poveraccio giù a morire di fame, sono passati un po' di decenni e la stessa cosa purtroppo avviene in questo paese, però mentre lì si tentano realmente operazioni per bonificare l'economia, per rilanciare l'occupazione, l'abbiamo visto con il piano di sviluppo attraverso la Federal Reserve, qui nel nostro paese invece viviamo nelle beghe della cucina, della politica che non ha la forza di dire nulla a livello europeo e in Italia invece ci distrae con le lotte interne ai partiti, tanto è vero che Renzi spera di non arrivare più al 2018 per levarsi di torno i rompiscatole e ipotizza anche le elezioni da qui a un anno e come in ogni competizione elettorale e come ogni capace politico si inventa qualcosa da dare ai cittadini italiani come l'ultimo miliardo e mezzo che potrà essere distribuito tra 6-7 milioni di nostri compaesani e in Puglia si assiste poi a questo balletto all'interno del centro-sinistra su a chi possiamo scaricare le responsabilità del malgoverno del centro-sinistra di questi dieci anni in Regione e quindi vendola che l'obiettivo numero uno ma Emiliano chiude l'accordo con Stefano e quindi lascia isolato l'ex governatore che se avesse avuto di fronte una coalizione compatta certamente avrebbe sfidato nuovamente Emiliano pur di farlo perdere ma siccome oggi sulla carta Emiliano è già come dire arrivato al traguardo vendola purtroppo è costretto a star zitto e dall'altra parte la strategia fittiana o antifittiana sì perché Adriana Polibortone è riuscita come dire a coagulare intorno a sé tutti coloro che erano antifittiani anche quando questo era Berlusconiamno e si va avanti in attesa del 31 maggio giorno in cui scoppierà chissà quale rivoluzione e da questo punto di vista potrebbe aver ragione Adriana Polibortone nell'aver suggerito alla Meloni attenta che la coalizione di centrodestra anti Renzi non è rappresentata dalla tua alleanza col nuovo centrodestra che governa con questo ma dalle forze politiche che sono contro Renzi fermo restando che lo è anche fitto per carità ma i partiti nazionali contro l'attuale premier sono soltanto Fratelli d'Italia Forza Italia e noi per Salvini almeno i maggiori per guardare all'area moderata o conservatrice o di centrodestra a domani